Non posso, non voglio coinvolgerti. Lo sono già. Secondo me è la classica arrampicatrice. Magari anche quella purta sotto il naso. Come tutte quelle che se le contendono a Milano. Nando, i piatti per i bambini? Sono lì, guarda. Comunque scusate se mi intrometto, ma se è riuscito a arrivare fin qui è sicuramente più furba delle altre. Ma sì, è vero, è solo un po' più furba.